E, V, E, G, E, W, chi non sa chi è, E, V, G, V, C, E, C Ok, ora basta che vado a trovare un po' di materiali che si trovano qua in giro Come ricordate questa è la dimensione viola su cui sono morto l'altra volta Fortunatamente ho trovato tutte le cose e possiamo continuare Quanto è strano, quanto è strano che, cioè, quando parte un video che non fa neanche l'intro Cioè, è strano perché noi siamo abituati a sentirla Oh, madonna Ciao a tutti ragazzi, sono Videogaming with Check Sono qui oggi convito ad addestratore all'episodio numero 10, credo? Penso di sì E sì, siamo tornati dopo la grande, grande cosa che è successa l'altra volta Ovvero, la mia morte Tanto per cambiare Stronzo, muori! Non muoiono? Ho visto una cosa già Ah no, il naso dell'arena, perfetto Comunque sia, siamo in questa bellissima dimensione viola Che non è neanche tanto bella, dato che tutte le dimensioni sono più o meno uguali E stavo pensando che è veramente difficile andare in giro per questa dimensione, voglio dire Prima di tutto devo vedere se il piccone che ho è abbastanza potente per minare questo materiale Perché se non lo fosse, devo tornare indietro nella dimensione precedente e prendere un po' di materiali Della dimensione precedente per potermi creare un piccone Abbastanza forte Per poter non scappare Non scappare Ok, non mi ricordo più come ti chiami Johnny Becco e rarragno A proposito di Johnny Becco Mi manca un po' Johnny Becco Speriamo che li possa minare, così almeno non mi faccio viaggio inutile Yeeey E quindi sì, questi sono Eh, non vi preoccupate per quello Spero che nessuno di voi abbia preso paura Comunque sì, questi sono alcuni dei minerali che ci serviranno per andare avanti nella nostra storia Di andare in giro per tutte le dimensioni perché non ne raccolgo Perché ho alimentari assolutamente Pieno carota Non mi servi Ok, spero che non ci siano dei mostri qua perché quelli mi possono one-shotare E dato che non ho l'equipe inventory true Io non vorrei morire Serve una cosa abbastanza antipatica Perciò chiamiamo in aiuto la nostra renna Che non mi ricordo come si chiama Spero non sia morta, perfetto Eee Mi manca Charton Ecco Charton E lo devo sempre avere nel inventario Charton C'è poco da fare Eccoci qua Ora, molto Ah, già Già, 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 già Non mi scordo Molto, molto professionalmente Andrò A vedere perché alcuni di voi Mi hanno consigliato Intanto torniamo il portale Mi hanno consigliato Eee Di farmi un'armatura nuova Solo che io non mi ricordo assolutamente qual è Non mi dire Ok, 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 ok Ci siamo No, no Oh mio dio Ho colpito l'arena Spero che non muoia Non dovrebbe morire per avvelenamento Perciò andrei sul tranquillo qui Siamo tranquilli Siamo tranquilli Se mi muori adesso Rena, ti giuro Ti giuro Ce l'avrò per sempre con te Ok, grazie Molto gentile Comunque sia Molto professionalmente Andrò a controllare Velocemente che Nei commenti Del video precedente Che cosa mi avete Consigliato Ah ok Di fare lo Shikax Shikax Che sembra una parolaccia in inglese Con il rupee Io ho abbastanza rupee Dovrei avere Eeeh Party pancakes Ah pancakes party Sì Perché l'inglese è un po' difficile Cambia Un po' Il L'ordine delle cose Bla 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 Cerca 15 mila iscritti Fai un vlog Il vlog Il vlog E' un po' Il E' un po' Il tipico commento Cioè Non esiste video Senza Che ci sia quella parola Intanto io sto cercando Che cosa mi avete Consigliato Ecco Armatura in bedrock Ha avuto Abbastanza Abbastanza Voti positivi Quindi dai Dovrebbe essere Dovrebbe essere Abbastanza cosa Dovrebbe Ok Il mio italiano è bellissimo Dovrebbe essere abbastanza cosa Quindi ci facciamo La L'armatura di bedrock Solo perché Io non ho parole Solo perché E' abbastanza cosa Comunque sia Dicevo del Dicevo del vlog Perché io non ho una piantagiona Così In vita da pirata Cioè Sarebbe una cosa fantastica Invece no Devo andare avanti A scarti Maledizione Maledizione Enderman Maledizione Avete fatto delle uova No Siete inutili Guarda chi c'era Te Intanto muori Eh sì Dicevo Quando finisce Grazie Il vlog Il vlog Non lo faccio Per il semplice motivo Che C'è che non possiedo Una faccia E' una cosa Vi cambierò un giorno Vi cambierò Stupide porte Stupide porte Chiuditi Perché rimani aperta Chiudetemi anche voi Siete rimaste aperte Stupide porte Comunque sia Un giorno Non lo farò Che senso ha questa frase Non farò Il vlog Per il semplice motivo Che io non ho una faccia Io non possiedo Una faccia La 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 mia costituzione La mia Non mi Io Ragazzi È inutile Io sono nato senza faccia Cioè Riesco a parlare Ok basta Comunque no Sto per morire Molto bene Pregate per me E Sì Comunque sia Non farò un vlog Per il semplice motivo Che non voglio fare un vlog Quindi mi sembra abbastanza Comune come No quella Ma la porto sempre dietro Non si sa mai Come motivazione Te non vai qua Ma vai qua Comunque noi ci vediamo Quando Ho raccolto tutti i materiali Per fare un po' di cose Insieme Ok A tra poco ragazzi Ciao Ok prima di crearmi Un po' Di armatura di bedrock Dovrei Prepararmi per fare La Shia Caxe Io la chiamerò Non lo so Non lo so Comunque sia Mi serve Ogni Oh madonna Ogni materiale Tipo Spada Piccone Eccetera E basta fonderli E diventa uno Shia Caxe Cac Blat Le Comunque sia Mi avete capito Perché io non sono buono A fare cose Non si sa Ma comunque Non parleremo di questo Parleremo di quanto C'è che è Bravo A fare video Che Fanno Pensare Cosa sto dicendo C'è che Ah ok Il piccone A quanto pare Deve essere pieno C'è che non lo sapeva Duh Oh mio dio Specare altri Tre Per fare un piccone Va bene così Perché adesso Abbiamo uno Oh no Come si fa Come si fa Allora Ah ok Devo metterli in ordine Proprio E Zappa Palla Picco Ascia Ascia Mancava l'ascia Non era una spada Perfetto Grande check Hai sprecato Altri due pezzi Di Materiale Dato che non ti serviva No vero Comunque sia Mettiamo Nel giusto ordine Così Se mi ricordo bene E si ha Finalmente Quello che tutti Mi avete Eh Avete desiderato Lo Lascia Ok Quindi D'ora in poi Si chiamerà Vomito nella bocca Quella È un bel nome però Chiamerò mio figlio Vomito nella bocca Se è una figlia La chiamerò Soppa Sarà un padre Provetto Oh mio dio Va bene Comunque sia Stupide porte Stupide porte Guardate cosa Mi avete fatto fare E noi Andiamo Al Al bioma Dei minerali Perché Se io prendo Il mio Maiale Vado molto più veloce Vedi che Questa mod Serve a qualcosa Un maiale piccolino Andiamo Ehm Andiamo Nel bioma Dei minerali Per farci Un po' di Rupi Rupi Col mio nuovo Shula E noi ci vediamo Quando ho Un sacco di minerali Perché La bedrock Per fare la bedrock Costa Un bel po' Ah tra poco Ok Eccoci tornati E come potete vedere Ho appena Forse Dovrei schiarirmi la gola Prima di cominciare A registrare Ma comunque sia Ho avuto un combattimento Con un colosso E' stato facile Come avete potuto vedere O massimo della vita Ma comunque sono Dovete capire Che io sono Il peggior scavatore Di ossidiano Sarò caduto Dentro la lava Tante di quelle volte Che voi non Vi potete neanche Immaginare Cioè Se io non avesse avuto Questa armatura Super figa Sarei morto Così morto Così tante volte Che veramente Avrei lasciato anche Questa serie da parte Anche questa serie Che Mi è venuta Una buona idea Mentre ero via Dato che io Ho guardato Nella sezione commenti No Mentre Dovevo creare Tutte ste cose Avevo pensato Ma Se noi facciamo Tipo che Nella sezione commenti Mi dite un po' Quello che volete Che io crei Nella puntata dopo Anche come Animale Se volete Che io crei Un animale O un Qualsiasi cosa Ditemelo nei commenti Io farò In modo Che io Abbia qualcosa Cioè Non so come spiegarlo Comunque avete capito Perché siete intelligenti Non come me E Farò in modo Di creare Quella cosa Che mi dite nei commenti Come ho fatto esattamente Con questa cosa Quindi Io nel mentre che parlavo Ho creato Della Della bedrock Se io la piazzo per terra È la fine Perché non si può più distruggere Quindi Ancora c'è il fuoco Laggiù ho dato fuoco Ad una capra A una pecora E Con la bedrock Ci cominciamo a fare La nostra armatura Che si fa Come tutte le altre armature Quindi abbiamo fatto Il nostro elmetto Fantastico Fantastico E costa un bel po' Di In termini di In termini di materiali Fare Questa armatura Però spero Che voi nei commenti Che voi asopi Mi avete consigliato bene Insomma Quindi noi aspettiamo Che tutto il rupee Si finisca di sciogliere E creiamo Altri pezzi Sperando che mi basti L'ossidiana Sinceramente Non credo Ma comunque Noi ci vediamo Quando ho finito Tutta l'armatura E poi andremo lì Testeremo se L'armatura Ne vale la pena Tenerlo o no Vediamo se i nostri asopi Hanno ragione o no E poi Finiremo l'episodio Lo voglio tenere corto Questo episodio Saranno già passati Sicuramente 16 minuti Come gli altri due Ma vabbè A tra poco ragazzi Ok ragazzi Armatura completata Ora ve la faccio vedere Molto velocemente Metto giù Un po' di roba Che non mi serve E possiamo partire subito Per la dimensione Perché questo video Lo voglio tenere sul corto Come sapete Come Ho già detto In moltissimi altri Miei video Che voglio tenere Quelli che Usciranno Più frequenti Ma più corti Questa formula Sta andando bene No Tu vai via Voglio vedere una cosa Che mi avete suggerito Che mi avete suggerito Nei commenti Oh Non l'avevo mai visto Mucca 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 Ok ok Un eschimese Sembra Sembra buono Esplodi Boom Oh mio dio Guardate la mia vita Non ci posso credere Non ci posso credere Che cosa Non pensavo Fosse così forte Io pensavo tipo Armatura di bedrock Sarà invincibile Invece no Oh Nella prima puntata Ho fatto una fatica Del boia Ad uccidere E vabbè E vabbè Tipo Non ho più la vita Spero che Spero che Non stia laggando Il gioco Ok no Spero che Quello che mi avete suggerito Sia giusto Io adesso Provo a raccogli Non ci posso credere Provo a raccogliere Un po' di materiali Se riesco ad entrare In una dimensione Speriamo che c'è ancora La mia arena Perfetto No Quindi Ecco Mi si è rotto Il simbolo dell'arena Dovrò ricrearne Un altro Prendere i materiali Anzi Mi faccio Mi faccio sparare apposta Da quell'arcere là In modo tale Che vedo Quanto danno Mi posso fare Forza Forza Tu mi hai acceso Nella puntata Nella puntata prima Vediamo se riesci A uccidermi adesso Ma Oh mio dio Ci ha matto Tu metà vita Oh mio dio Allora Ecco il mio appello Voi che siete Siete dei asopi Molto bravi Molto belli Molto fedeli Molto tutto Scrivetemi Nei commenti O Dove volete Anche su twitter Per chi non Per chi non lo sapesse Io so twitter Seguitemi su twitter Perché lì rispondo Rispondo Ai commenti A tutto Comunque sia Non siamo qui Per parlare di questo Se voi sapete Se Se esiste Un'armatura Più forte Di quella Che posso Proteggermi In questa dimensione Fatemi sapere Nella sezione Di commenti Ovunque vi pare E noi Ci vediamo Al prossimo episodio Probabilmente Nel prossimo episodio Se ci sa Si ci sarà Al prossimo episodio E avrò finito Di raccogliere Tutti questi Minerali E Sono già andato Forse In un'altra dimensione Ma comunque E noi ci vediamo La Ah tra poco Ragazzi Oh mio dio Quello che volevo dire Era Ciao ragazzi Efficiente